Giuseppe Gianni Revisore Revisore Abbiamo visto sempre che una dieta ricca di fibre vegetali, di cui sono ricchi i legumi, i cereali integrali, la frutta, viene difensata dai batteri intestinali a produrre dei metaboliti che si chiamano short-chain fatty acid, acidi grassi a catena corta come il propionato del buturrato che si legano a dei recettori specifici sulle cellule intestinali e fanno due funzioni importantissime una riducono l'infiammazione sistemica l'altra aumentano delle cellule che si chiamano T regolatorie che ci proteggono dalle malattie allergiche asma, malattie autoimmunitarie come il diabete tipo primo, il Crohn l'etocutio del cerosa, sclerosi multipla per ora questi qua sono lavori su modelli animali stiamo iniziando a fare i lavori sull'uomo però insomma l'evidenza è abbastanza convincente e noi pensiamo che questo aumento importante che c'è stato di asma, di malattie autoimmunitarie di diabete tipo primo del genere sia legato in parte al drastica riduzione di cereali integrali e legumi nella nostra dieta quindi mangiate assolutamente più legumi e più cereali integrali nelle fibre ci sono anche poi un sacco di fitocomposti ogni tipo di verdura, frutta ha dei diversi tipi di sostanze vitamine, fitocomposti di cui veramente non ho il tempo di parlare perché ci vorrebbe un sacco di tempo quello che voglio dirvi faccio un esempio per uno adesso abbiamo appena raccolto le olive e fatto l'olio voi se andate al frantoio e provate l'olio vero quello extravergine di oliva voi sapete che quando lo metto in bocca vi pizzica la gola c'è questo pizzicore forte sapete cos'è quel pizzicore? è una molecola che si chiama olecantale questo qua è un lavoro pubblicato su Nature penso che conoscono tutti Nature che ha un effetto antiaggregante piastrinico c'è stato dimostrato che questo pizzicore è come se voi prendeste una baby aspirina cioè per i cardiopatici aiuta a prevenire l'infarto del miocardio perché tiene le piastrine disaggregate però è chiaro che se io un cucchiaio di olio d'oliva sono 100 calorie se io mi bevo un litro di olio d'oliva al giorno diventa obeso e l'effetto dell'olcantale sparisce nei confronti dell'obesità quindi il concetto che deve passare è che non esiste un fitocomposto singolo un cibo che riesce a come dire a eliminare gli effetti dannosi di un eccesso calorico quindi nelle giuste proporzioni tutte queste cose fanno bene ma nelle giuste proporzioni ultima diapositiva sulla nutrizione altro concetto molto importante questo è un lavoro che abbiamo a pari da pubblicato su SEL l'anno scorso e cosa ci dice questo lavoro? è che quando noi assumiamo l'olecantale la vitamina C la vitamina E il licopene qualsiasi cosa l'effetto di questa stessa concentrazione di questa molecola non è lo stesso in tutti, perché dipende dal tipo di batteri. In questo esperimento abbiamo preso dei topolini che si chiamano germ-free, cioè non hanno nessun tipo di batterio nell'intestino come noi quando nasciamo, siamo vergine dal punto di vista, non c'è nessun batterio nel nostro intestino. E gli abbiamo messo praticamente nell'intestino le feci di diverse persone con diverse diete. E quello che abbiamo visto è che la stessa concentrazione di questa molecola che si chiama curcumina, che è quella che c'è nella polvere gialla del curry, sul transito intestinale varia al variare dei tipi di batteri che gli abbiamo messi. Cosa significa? Che quello che abbiamo mangiato in passato che ha modulato i tipi di batteri che vengono nel nostro intestino vanno a modulare la risposta della stessa concentrazione di molecole sulla salute. Quindi quello che mangiamo modifica la risposta ai fitocomposti, alle vitamine e probabilmente anche ai farmaci. Cioè capite quanto è complesso e quanto richiede tempo per modulare la salute. Adesso abbiamo un paper che sta uscendo sempre su Cell in cui facciamo vedere che il peso, la nostra possibilità di perdere peso dipende dai batteri intestinali e quindi dalla dieta precedente. Vabbè, finita la prima parte. Passiamo all'altro argomento che è anche molto importante che è l'attività fisica. Voi sapete che fino a 50 anni fa la normalità era questa. la gente doveva andare a prendersi l'acqua alla fontana, alla legna, doveva andare, si muoveva a piedi, con il carro, col cavallo, a rava, a mano, portava la legna in spalle e siamo passati da questo che era la normalità per millenni a questo. Cioè veramente in America c'è gente che porta il cane a spasso guidando la macchina e bambini che passano il loro tempo seduti davanti alla televisione per ore, 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 ore. Noi sappiamo che l'attività fisica è importantissima, che le persone che fanno attività fisica regolare vivono più a lungo hanno una migliore qualità della vita. Questo qua è un lavoro recente pubblicato su, mi sembra, Lancet in cui si è visto che indipendentemente dall'attività fisica che fate, tipo la mezz'ora di corsa, di bicicletta, stare seduti al computer, alla televisione per tante ore aumenta il rischio di morire anche se fate queste sessioni. Quindi quello che sto dicendo cercate di alzarvi ogni 20 minuti, ogni mezz'ora cercate di alzarvi, fatevi una rampa di scale, fatevi qualcosa, non state sempre fermi perché quello lì indipendentemente dal fatto che due o tre volte a settimana fate un po' di attività fisica vi aumenta il rischio di morire, di ammalarvi di malattie cardiovascolari nuotare. Questa ha dei suoi benefici. Un beneficio è quello che si può usare per perdere peso. Cioè se noi facciamo attività fisica aerobica di una certa intensità, di una certa costanza, perdiamo peso. Questo qua è uno studio che abbiamo fatto noi negli Stati Uniti in cui abbiamo diviso un gruppo che faceva restrizione calorica, un gruppo che faceva attività fisica, veniva tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì a fare un'ora, un'ora e mezza con noi in più doveva fare altra attività fisica a casa e vedete che in un anno hanno perso il grasso viscerale. Vedete questo grasso viscerale qua? Praticamente è sparito in questa persona che faceva attività fisica. Ha perso un sacco di peso e un sacco di grasso viscerale. Perché? Secondo voi perché? Come mai l'attività fisica ci fa perdere peso? Lo sapete? Ci sarà un meccanismo, no? Perché perdiamo peso? Perché bruciamo? Ma perché bruciamo? Perché fondamentalmente quando facciamo attività fisica aerobica aumentiamo il numero di mitocondri nel muscolo. I mitocondri sono quegli organelli che trasformano lipidi e carboidrati insieme all'ossigeno in ATP. ATP è la molecola che fa contrarre le fibre. Quindi quando facciamo attività fisica questo qua è uno studio che ha fatto il mio il mio capo ex capo John Holody che ha vinto la medaglia d'ora alle Olimpiadi di Sydney e mezzo milione di premio come riconoscimento per le sue scoperte sull'attività fisica lui per la prima volta ha dimostrato fondamentalmente che se facciamo attività fisica per sette giorni aumentiamo il numero di mitocondri. Cosa significa? Un atleta allenato consuma brucia circa cinque litri di ossigeno al minuto. L'ossigeno serve come nel motore a scoppio senza l'ossigeno non c'è la reazione di produzione di energia anche nel corpo umano l'ossigeno è essenziale per bruciare nei mitocondri i lipidi e i carboidrati il che significa che questa persona allenata in un'ora brucia mille e cento calorie una persona sedentaria invece ha un consumo di ossigeno di 1,6 litri al minuto cioè significa che nella stessa ora brucia soltanto 360 calorie un terzo a parità di tempo brucia un terzo se noi prendiamo una persona e la facciamo allenare può passare da 1,6 a 2,6 litri al minuto cioè da 360 calorie a 600 calorie quindi il messaggio fondamentalmente è che man mano che voi vi allenate e aumentate il numero di mitocondri a parità di tempo brucirete sempre più grasso ok? quindi è un fattore di miglioramento costante quindi all'inizio non avete nessun beneficio ma pian piano avviene queste modificazioni l'altra cosa che sappiamo che fa l'attività fisica è quello di aumentare i livelli di HDL il colesterolo buono di ridurre i trigliceridi di abbassare la pressione e di abbassare alcuni di questi fattori che promuovono cancro alla mammella alla colon alla prostata l'altra cosa che fa è quella di migliorare ridurre il rischio di diabete migliorando la tolleranza glucidica e riducendo l'insulina sia a digiuno che sotto carico di glucosio attraverso due meccanismi uno è riducendo il grasso viscerale e l'altro quando noi facciamo mezz'ora di attività fisica sul muscolo vengono espresse queste molecole che si chiamano glutifor sono dei trasportatori di glucosio che dal citoplasma passano sulla membrana della cellula muscolare e fanno entrare il glucosio nella cellula per essere bruciato quindi quando voi fate attività fisica avete un effetto cronico e un effetto acuto nella riduzione del rischio di diabete il problema è che questi trasportatori dopo 48 ore che non fate attività fisica anche se siete degli atleti professionisti spariscono e questo è il meccanismo che dovete ricordarvi per cui bisogna fare attività fisica almeno un giorno sì un giorno no perché altrimenti l'effetto acuto benefico lo perdiamo anche se siamo degli atleti questo qua è sempre uno studio che ha fatto il mio capo John Holosi ha preso degli atleti super allenati e gli ha chiesto per dieci giorni di smettere di fare attività fisica guardate cosa è successo dopo dieci giorni che non facevano più attività fisica la glicemia è aumentata e l'insulinemia guardate è raddoppiata cioè in dieci giorni un atleta che non fa più niente ha un peggioramento pazzesco del rischio non di diabete perché ma peggiora il profilo glicemico e insulinemico altro concetto al volo importante dell'attività fisica aerobica che è importante per la mente per il benessere psicologico si è visto praticamente che anche nelle persone con iniziali di Alzheimer in studi clinici migliora la prestità del cervello le funzioni cognitive il meccanismo uno dei meccanismi sembrerebbe essere che quando facciamo attività fisica il muscolo produce una molecola che si chiama catepsina B che va al cervello e stimola la produzione di un ormone che si chiama BDNF che è l'ormone neurotrofico cerebrale e quindi migliora la memoria e le funzioni cognitive cioè c'è un meccanismo particolare molecola quando facciamo attività fisica il muscolo produce catepsina B BDNF e migliora le funzioni cognitive memoniche e il nostro umore idealmente noi dovremmo praticamente fare attività fisica di bassa intensità con una frequenza cardiaca sotto l'80% in quel range lì bruciamo grasso naturalmente poi questo deve essere personalizzato il problema di questa attività fisica di bassa intensità che si può calcolare beh lo sapete 220 meno l'età quella è la vostra frequenza cardiaca massima da lì fate l'80% e sapete qual è la vostra frequenza cardiaca a cui dovete lavorare per bruciare grasso il problema è che questa ah altra cosa che diversi tipi di sport hanno diversi effetti questo qua è uno studio molto bello in cui si vede che a parità di frequenza cardiaca massima chi corre brucia di più di chi fa bicicletta quindi ogni sport ha diversi tipi di benefici ma la cosa importante che volevo dirvi è che purtroppo l'attività fisica a bassa intensità richiede un sacco di tempo cioè uno deve fare attività fisica per un'ora 90 minuti per avere i benefici quindi una strategia potrebbe essere quella di incorporare due o tre volte alla settimana quello che viene chiamato high intensity interval training sapete cos'è alcuni di voi sicuramente lo sanno significa praticamente correre andare in bicicletta al massimo della vostra capacità per 60 secondi poi fare 60 secondi camminando pianissimo poi altri 60 secondi al massimo della velocità che riuscite a tirare poi altri 60 secondi per 10 cicli praticamente in 20 minuti avete finito di fare la vostra attività fisica e abbiamo visto con studi ben fatti che questo tipo di training ha lo stesso effetto sul metabolismo basale cioè aumentare il metabolismo basale tra il resto 24 ore dopo anche che abbiamo fatto l'attività fisica riduce la glicemia la pressione e aumenta quel trasportatore glutifor come se noi corriamo per 90 minuti quindi questo potrebbe essere una delle strategie che alcuni atleti usano tra il resto con la high interval training reclutate fibre che normalmente non usate quindi più fibre vengono allenate concetto importantissimo l'attività fisica non è un sostituto di una dieta sana cioè scordatevi come alcuni americani pensano io mangio quello che voglio e poi brucio tutto non funziona così la qualità della dieta è importante tanto quanto l'attività fisica noi stiamo stati nei sedi delle persone che per tanti anni correvano 50 80 canti alla settimana mangiando male quando li mettiamo per fare il test da sforzo per fare la VO2max vediamo aritmie triplette ventricolari c'è roba da dire adesso devo smettere perché se mi fa un'aritmia mortale mi chiudo il laboratorio e mi tocca velocemente passiamo all'attività fisica invece di resistenza quella la pesistica che è anche importantissima è importantissima perché man mano che invecchiamo perdiamo massa muscolare e questo è un problema perché se perdiamo troppa massa muscolare poi non riusciamo neanche più a fare le scale non riusciamo a alzare un peso non riusciamo a fare quelle cose che ci servono tutti i giorni quando invecchiamo e poi abbiamo bisogno di persone che ci aiutino a camminare addirittura sappiamo che l'attività fisica la pesistica è importantissima per la prevenzione della perdita della massa muscolare molto più che l'attività fisica di tipo aerobico e tante altre cose ma soprattutto per la prevenzione della perdita di massa ossea l'osteoporosi voi sapete che ad esempio quando noi contraiamo un muscolo il muscolo è attaccato con due tendini all'esternità dell'osso quando si contrae genera una forza immensa sull'osso cioè se io ho 60 kg e sto su due piedi ho 35 kg e 35 kg qua se io sto così ne generano 192 kg perché il muscolo si contrae per stare in equilibrio e genera una forza che è tre volte il mio peso si è visto è stato pubblicato che un minuto stare in equilibrio un minuto su una gamba genera il lavoro integrale di 35 minuti di cammino al di là della palestra ci sono un sacco di esercizi che potete fare a casa in 10-15 minuti che possono aiutarvi a mantenere la massa muscolare e a lavorare sull'osso non ho il tempo di entrare nei dettagli parliamo velocemente di un altro argomento che è quello della postura equilibrio elasticità che sono spesso sottovalutati una scorretta postura il disequilibrio muscolare posturale e il disallenamento articolare la rigidità articolare sono dei problemi importantissimi che molte persone sottovalutano vedete una cattiva postura faccio un esempio se io sto così numero uno non posso respirare bene non riesco a inspirare perché la gabbia toracica si chiude per poter camminare senza andare a sbattere contro il muro devo inarcare il collo se io sto tutta la giornata così a sera ho un dolore tremendo perché contraendo i muscoli del collo praticamente tutto il tempo sto irrigidito e nel tempo mi viene una ipotrofia di questi muscoli con cervicalgie potentissime poi altero tutto l'equilibrio posturale di tutte le altre delle vertebre delle anche e quindi causo delle alterazioni importantissime che portano a problemi articolari mal di schiena mal di collo mal di testa un po' come il colpo di frusta se io sto così praticamente come se avesse un colpo di frusta che negli anni porta a un malessere non solo fisico a usura delle articolazioni dei menischi via dicendo artrosi delle anche ma anche un problema psicologico perché naturalmente la nostra postura come stiamo è fondamentalmente importante per il nostro benessere psicologico ma anche le altre persone ci percepiscono diversamente se io mi presento a voi così o mi presento così è tutto un altro aspetto comunque insomma bisogna cercare di fare stretching regolarmente ogni volta che si finisce l'attività fisica almeno due o tre volte a settimana 60 minuti alla settimana diviso anche in più sessioni secondo l'American College of Sport Medicine è sufficiente per fare tutte queste cose ci sono altre matodiche più antiche vedete che ad esempio gli orientali le avevano studiate il Tai Chi Chuan per esempio sapete tutti cos'è questa danza lenta si è visto in studi clinici come nel New England che previene il rischio di cadute perché migliora l'equilibrio quindi previene il rischio di cadute e voi sapete che la caduta è il vero rischio di frattura del femore per gli anziani quando un anziano cade e si frattura il femore al 50% muore e cade perché ha un cattivo equilibrio lo yoga anche ha questo effetto nel ribilanciare i muscoli agonisti antagonisti nel ridurre il mal di schiena questi qua sono lavori clinici fatti riduce il mal di schiena aumenta la flessibilità l'equilibrio aumenta l'energia riduce l'affaticamento e la cosa interessante che avevano studiato gli orientali se ci pensate voi sapete che quando fate yoga nelle posizioni quelle di rilassamento bisogna respirare lentamente con l'addome le respirazioni molto lente le persone brave riescono arrivare a ridurre la frequenza respiratoria dai 12 14 noi normalmente respiriamo 12 14 volte al minuto durante lo yoga ben fatto arriviamo a respirare a 5 6 volte al minuto io riesco a arrivare a respirare 3 volte 3 volte e mezzo al minuto e quello che abbiamo scoperto che oltre naturalmente ad aumentare l'ossigenazione del sangue questa stimolazione questa lenta respirazione attiva il sistema parasimpatico cos'è il sistema parasimpatico il nostro noi abbiamo praticamente due sistemi vegetativi il simpatico e il parasimpatico il simpatico è quello fondamentalmente se adesso c'è un cane che mi abbaia io senza pensarci immediatamente aumento la frequenza cardiaca la pressione perché sono pronto a scappare ma non è che ci penso sento un botto c'è un'esplosione tutti voi la frequenza cardiaca va alle stelle la pressione si alza e siete pronti a scappare è un meccanismo ancestrale di controllo del rischio del rischio di essere attaccato da un animale l'incontrario è il parasimpatico quando invece siamo tranquilli rilassati prevale il parasimpatico e ci abbassa la frequenza cardiaca la pressione e tante altre cose quello che sono pubblicato da una collega si chiama Tracy su Nature è che quando noi stimoliamo il sistema parasimpatico inibiamo la infiammazione in maniera potentissima ha un effetto antinfiammatorio quindi per esempio respirando lentamente inibiamo l'infiammazione si è visto da altri questo qua è un ricercatore italiano che praticamente ha visto che abbassa la pressione e riduce il rischio di aritmie per capire come la semplice modulazione della respirazione ha degli effetti fantastici nel regolare il sistema simpatico e parasimpatico ripeto queste qua sono pubblicazioni su riviste fantastiche cioè non sono pubblicazioni su riviste di basso impaffatto sono riviste importantissime Nature JCI e via dicendo siete stanchi? siete depressi? ma no no è un po' come tutte le cose nel senso che quando mi hanno fatto andare in macchina no? ma cavolo ma adesso devo premere la frizione l'acceleratore il freno ma come faccio devo mettere la marcia adesso saliamo in macchina parlando con un'amica e andiamo oppure quando abbiamo iniziato a fare matematica alla scuola voglio dire mamma mia poi uno arriva a fare studi dei funzioni a disegnare o prendi un dentista all'inizio trappano in mano tremava tutto adesso uno quindi voglio dire il problema è che queste cose qui andrebbero inserate a scuola in maniera che piano piano uno come impara a scrivere a leggere impara queste cose che diventano patrimonio normale e poi diventano come andare in macchina una cosa regolare il problema è che invece non abbiamo queste cose noi siamo abituati a fare quello che vogliamo poi quando siamo ammalati andiamo dal medico diciamo ah sa dottore ho male al cuore ho un nodulo al seno a quel punto lì fai l'esame trovi la magagna e devi cercare di curarla il meglio possibile no